I cittadini italiani sono esasperati, il fenomeno dell'immigrazione è fuori controllo, le istituzioni dal governo nazionale di Renzi e Alfano ai governi locali, sindaci, presidenti di regione devono stare dalla parte dei cittadini, devono offrire sicurezza, vanno create le mediazioni, la condivisione giusta per quando è indispensabile, ma noi siamo convinti che si debba fare la politica dei rispingimenti, accogliere i rifugiati in strutture idonee come la caserma per esempio che è stata scelta in Veneto. La localizzazione che c'è stata a Roma, quella di Casale San Nicola, è del tutto inopportuna, come hanno denunciato i comitati, Fratelli Italia è d'accordo e ha fatto una protesta civile che intende confermare anche nei prossimi giorni.